Come ha fatto un progetto come Italiano di Frontiera? Abbiamo molto da lavorare e aver trovato persone come te mi conforta. Sono Michele D'Alena, vivo a Bologna e spesso sono a Bratislava dove sto creando una società che si occupa di comunicazione. Italo Blog è un progetto che ho creato circa due anni fa per la Camera di Commercio Italiana in Slovacchia, a Bratislava. È un progetto che ha servito per valorizzare la comunità delle imprese associate alla Camera di Commercio Italo-Slovanca.